Buon anno a tutti, mi rivolgo a quanti di voi suonano, cantano o fanno parte di band musicali per rinnovarvi l'invito a partecipare al Sound Spirit Festival, questa manifestazione di musica cristiana che si terrà nell'ambito delle iniziative della giornata per la terra, la terrazza del Pincio, il 27 aprile alle 16.30. Non c'è da avere paura, anche se il palco è veramente professionale, il tema che tratteremo è quello dell'integrazione, prendendo spunto dal brano di Paul McCarty e Michael Jackson Ebony and Diver, un tema di grande attualità, per cui se siete amanti della musica cristiana mi raccomando fatevi sentire. Ciao e a presto!